I giornali dicono falsità, i telegiornali vanno a ruota. Non è possibile attraverso l'informazione di avere un confronto in diretta. E allora sono costretta ad utilizzare il mio canale per poter mandare dei messaggi. E quindi siccome la popolazione di questo territorio vede i video, mi rivolgo a voi, cari signori, soprattutto coloro i quali non hanno avuto la volontà e la responsabilità, oserei dire, di chiedere il perché, il per come e il quando. E ciò che vi è stato detto, perché non venite a verificare di persona, che i nostri escrementi sono nel parcheggio, non è la verità. Vi permetterei una cosa del genere se noi non avessimo altra possibilità di poter evacuare. Ma siccome abbiamo trovato la soluzione, siamo noi i primi a rispettare il nostro territorio, che non è solo il vostro, è anche il nostro, questo che sia chiaro. Mentre invece ho già fatto presente la possibilità di registrare giornalmente tutti i vostri comportamenti, come circolate su territorio, come vi confrontate tra di voi, come agite nella civiltà e anche come dietro il parcheggio vi incontrate. Atti o sceni in luogo pubblico sono stati fatti anche stanotte. Quindi noi siamo rispettosi, non vogliamo filmarvi, ma se questo dobbiamo poi arrivare, siamo pronti. Alla prossima!